Quando in un paese come questo ci sono 30.000 stazioni appartanti, cioè ogni ente è un ente appartante, ma come si fa a controllare tutti? E come si fa a prevedere anche una gestione da parte dell'ente stesso, dell'ufficio tecnico, tant'è vero che danno progettazioni all'esterno, quindi non ci si lamenti se accadono questi aspetti. Noi dobbiamo revisionare fortemente il sistema degli appalti. In Francia non vanno oltre 100 stazioni appartanti, noi ne abbiamo 30.000 e finché avremo 30.000 stazioni appartanti, ha voglia di fare i commissari, non potranno controllare niente, saranno solamente dei simulacri privi di significato. Lo ripetiamo, la riforma della pubblica amministrazione passa attraverso il far saltare tutto il sistema diffusissimo e numerosissimo di stazioni appartanti. Quando un cedo politico non vuol fare questo è perché vuol mantenere in piedi una situazione come questa. Grazie.